C'è un presudio di Rachmanino, in uno ciclo tra 32, che tra l'altro Horowitz inizia proprio nel 1986 un'occasione dello storico rientro a Mosca. Questo presudio lo vorrei suonare, per me di dedicare qualche minuto di musica, a una persona che è già lasciata l'anno scorso. Questo presudio mi suggerisce una dimensione di serenità nascoluta, che è soltanto appena velata da un triste, un dolore, solo momentaneo nella parte genitale. E seguirò questo presudio pensando a una dimensione del genere, dove spero possa esserci. Grazie a tutti. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.